Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, vittoria importante per la Juve, che vince 2-1 al Castellani di Empoli, grazie alla doppietta di CR7, che si è inventato il secondo gol, veramente un gol pazzesco, da fuoriclasse, mostre assoluto, quale è. Partita sofferta, l'ottimo Empoli di Andrea Zori, nel primo tempo meritatamente lo chiude in vantaggio 1-0, la Juve inesistente, approccio completamente cannato, completamente sbagliata la partita, nel primo tempo l'unico che salvo è Matuidi veramente, perché è l'unico che veramente si è sbattuto, nel secondo tempo direi che tutta la squadra è venuta fuori, ha cambiato atteggiamento nei primi minuti, ha trovato subito praticamente il pareggio, il rigore netto, netto su Dybala, perché non dobbiamo adesso stare lì a dire, non dovete stare lì a inventarvi storie, il rigore è sacrosanto, primo rigore della Juve in questo campionato, Ronaldo lo segna, poi la Juve ha rallentato un po' il ritmo, perché comunque la partita sembrava avercelo in pugno, poi ha trovato il 2-1 con una magia di Ronaldo, un gol veramente pazzesco, poi diciamo che i cambi non hanno sortito, forse l'effetto ben sperato, cioè Quadrado e Costa dovevano allungare la squadra, Costa ha toccato pochissimi palloni, Quadrado, quelli che ha toccati li ha sbagliati, e quindi Lempoli è riuscito a venire avanti, la Juve ha sbagliato su me ancora l'atteggiamento nel finale, e Lempoli è andata vicino addirittura a pareggiare la partita, davvero un ottimo Lempoli di Andrezzoli, prima che, Lempoli, Lempoli, ricordo che Lempoli con la Roma è andato vicino al colpaccio, cioè Lempoli con la Roma non ha vinto semplicemente perché Caputo, che oggi ha segnato, oggi ha trovato il gol con l'unico tiro, con la Roma che ha fatto 4.000 tiri, tra cui un calcio di rigore alle stelle, eppure palloni sulla linea riuscirono a sbagliarli, quindi bisogna dire per le partite bisogna sempre giocarle, questo credo che debbano metterselo in testa soprattutto i giocatori, perché non si può entrare con questo atteggiamento così all'acqua di rose, così. Allora, migliore in campo Ronaldo, due gol insieme a Matuidi, Ronaldo per i due gol, Matuidi per la prestazione di sostanza che ha fatto, peggiore in campo di gran lunga, nettamente Bentancur, che secondo me non è da Juve, ma non lo dico da adesso, lo dico già, l'ho detto anche i mondiali, non è perché i mondiali, Bentancur malissimo, veramente, veramente male, salvo la prestazione del primo tempo di nessuno, nel secondo tempo mi è piaciuto anche De Sciglio che ha spinto, a differenza di qualcuno che dice che non ha spinto, De Sciglio qualcosa ha fatto, considerando che viene da mesi di infortunio, perché qua sembra per forza, chiaro che Cansello è più forte, però adesso qua sembra che De Sciglio abbia dimenticato i fondamentali. E magari gente che difende Bentancur, che lasciamo perdere, lasciamo perdere, comunque vittoria sofferta, vittoria che è comunque pesante per i fini del campionato, Allegri l'ha detto, le vittorie contro le partite come quella di Colgeno, sono quelle che ti fanno vincere lo scudetto e quindi sai che questa vittoria potrebbe essere pesantissima a fine anno. Detto questo, avete letto nel titolo, vi ho tenuto sulle spine fino adesso, il titolo diceva è tutta colpa di Dani Orgoglio Gobbo, e lo dico ancora adesso, è tutta colpa di Dani Orgoglio Gobbo, perché la Juve a Empoli ha sempre fatto partite enormi, non dico facili, ma belle vittorie rotonde, finché Dani Orgoglio Gobbo è andato a Castellani a vedere la Juve, una volta che lui è andato a vedere la Juve a vedere la Juve a Castellani, oh, da quel momento lì, la trasferta di Empoli è diventata tostissima, ciao ragazzi!